Si conclude ufficialmente la stagione 2017-2018 anche per il Serino. La compagine irpina, volendo tracciare un bilancio complessivo, ha svolto una stagione piuttosto dignitosa, rischiando in un primo momento la retrocessione, ma giocandosi nell'ultima parte della stagione addirittura l'approdo ai play-off. Abbiamo fatto un ottimo campionato, purtroppo parecchie cose sono venute contro, un po' sul campo, un po' fuori al campo come già detto. Noi ci chiamiamo Serino 1928 ma abbiamo poco di Serino, anche perché la città non risponde. Però abbiamo fatto settimo posto, terza miglior difesa, terzo miglior attacco, penso che questo ci sia tutto da essere contenti. Il presidente smentisce inoltre tutte le voci che vedevano il Serino in vendita e dichiara che la compagine irpina parteciperà regolarmente al prossimo campionato di promozione. Serino assente dal primo giorno che sono arrivato, il 18 agosto di due anni fa, è Serino assente in questo periodo. Però io ho dato una promessa a un uomo che ho stimato tanto, che non c'è più che il vecchio presidente e quindi la squadra la descriverò al campionato, non farò morire il titolo così oppure per darlo a qualcuno per poterlo distruggere. Iscriverò la squadra al campionato e poi ci sarà praticamente il nostro gruppo di sempre con Antonio Cavallaro, Generoso Guarino, il mister Marino, tutto il vecchio staff che comunque faremo un dischietto campionato, i ragazzi sono stati già contattati, non giocheremo un campionato per non poterci salvare, faremo un dischietto campionato, se no anche qualcosina in più, vedremo poi, non abbandonerò il Serino, questo sicuramente.